salve a tutti ragazzi e benvenuti oggi in questo nuovo video io sono marco e oggi vi porto un nuovo video spero vi piaccia fatemelo sapere con un bel commento qua sotto mi piace oggi entreremo nel mondo di star wars parleremo di come uno dei più grandi jedi sia diventato un sit parleremo di dugu del conte di sereno quindi niente ragazzi fatevi sapere se questa serie vi può piacere se volete altro scrivete nei commenti magari se volete informazioni o qualcosa su qualche altro aspetto di star wars e sarò felice di aiutarvi a scoprirlo quindi niente ragazzi vi lascio al video ciao ok ragazzi piccola premessa adesso farò una breve introduzione sul personaggio del conte dugu sulle persone importanti con cui ho avuto a che fare e poi passeremo alla sua vita da padovan da jedi da maestro jedi e in seguito a come è diventato un sit quindi ragazzi preparatevi ovviamente ragazzi attenzione spoiler anche se ormai sono passati anni comunque ci tengo a presiderlo per chi non ha guardato star wars la guerra le guerra dei cloni star wars la vendetta dei sit alla fin fine sono questi in cui ci sono più spoiler perché qui parlerò anche di altre opere tra cui libri i fumetti e parlerò anche della serie the clone wars però a livello di trama in the clone wars non ci sono troppo spoiler quasi niente in realtà quindi solo per chi non ha visto i due film quindi niente ragazzi buona visione il conte dugu lo vediamo apparire per la prima volta nel film star wars le guerra dei cloni per poi il vederlo brutalmente decapitato da anakin skywalker nel film la vendetta dei sit adesso non mi soffermerò molto su questo momento ma ne parleremo alla fine pure addirittura in un altro video se vi interessa i motivi per cui anakin ha fatto quello eccetera fatemi sapere nei commenti se vi interessa un video su di quello lo vediamo comparire anche nella serie animata the clone wars dove viene diciamo descritto molto meglio secondo me rispetto ai due singoli film e in più lo vediamo comparire in alcuni libri e fumetti personaggi molto famosi che conosciamo collegati al personaggio di dugu sono sicuramente in primis il maestro yodo maestro di quasi tutti i jedi nel tempio però in particolare vorrei farlo notare su dugu perché dugu essendo un ragazzo molto dotato yoda ha voluto personalmente controllare il suo addestramento e monitorare i suoi progressi altri personaggi sono il suo ex padawan qui con jinn infatti qui con che compare nel primo film la minaccia fantasma è stato addestrato dal maestro du il famoso jedi sifo diaz che non compare in nessun film e nessuna serie animata come personaggio vivo ma se ne parla molto spesso loro due sono amici non vecchissima data però comunque sono persone legate in quanto erano padawan assieme e hanno avuto molte esperienze in comune un'altra persona collegata al conte duku sicuramente è palpatine ma non solo come molti penseranno nel lato oscuro ma anche quando lui era un maestro jedi e non si sa ma penso di sì anche quando era un semplice cavaliere l'ultimo personaggio molto importante collegato al conte duku sicuramente è asajj ventres suo apprendista segreta nel lato oscuro per chi avrà visto la serie animata saprete che per la regola dei due solo un maestro e un apprendista ci possono essere nel lato oscuro quindi assajj ventres venne tenuta segreta da parte del conte infatti palpatine fino alla fine penserà che lei sia solo un'assassina comunque una donna che lavora per il lato oscuro come tutti sappiamo la vita di un jedi inizia con l'essere portato via dalla palpatine chi la trova una cosa giusta chi no il giovane duku venne portato via dalla sua famiglia sul pianeta del serenno in realtà con abbastanza facilità infatti la famiglia non fece neanche troppa resistenza in quanto loro essendo comunque una famiglia nobile ed avendo un altro erede non si fecero troppi scrupoli ad abbandonare il loro figlio senza segnare la forza duku venne addestrato nell'arte dei cedi si rivelò fin dall'inizio un bravo apprendista infatti era molto bravo nell'uso della spada e in poco tempo tra lo studio della politica infatti lui si interessò molto agli aspetti funzionali della politica e destreggiandosi tra lo studio e l'abilità con la spada e con la forza riuscì ben presto a superare le prove e divenne un jedi arrivò ad eguagliare jedi come il maestro yoda o mace windu nell'uso della spada infatti il maestro duku venne più volte invitato ad unirsi al consiglio jedi dopo un primo rifiuto il conte si trovò quasi costretto ad accettare infatti entrò a far parte del consiglio ora arriviamo a come duku ha rincontrato la sua famiglia infatti dovete sapere che nell'opera duku cioè di lost opera canon infatti oggi vi parlerò sia di opere legends che opere canon questa è un'opera un audiolibro che poi entrato trascritto in un libro in cui assaj ventres cerca di scavare nei ricordi del conte du in questo libro possiamo venire a conoscenza del fatto che duku ancora apprendista venne fatto partecipare con altri jedi padawan e maestri jedi venne fatto partecipare a una cerimonia sul pianeta di sereno questa cerimonia venne autorizzata cioè non la cerimonia ma il fatto che partecipasse duku a questa cerimonia è stata autorizzata dallo stesso maestro yoda ciò vedremo porterà in yoda molti sensi di colpa in seguito lì durante questa cerimonia o comunque durante il periodo in cui duku soggiornò su sereno conobbe la sua famiglia duku in quel periodo venne a conoscenza dell'odio di suo padre verso i jedi quindi immaginiamoci tu non conosci i tuoi genitori arrivi sul tuo pianeta conosci tuo padre e una delle prime cose che scopri è che odia tutti i jedi quindi anche però della famiglia non tutti lo odiano infatti molto con la sorella ciò portò un legame duraturo nel tempo e portò anche a un affezionarsi di duku per la sorella e a tenere dei legami con il suo pianeta cosa che nel tempo diverrà attaccamento e infatti come sappiamo nell'ordine dei jedi questa cosa è proibita infatti viene tenuta assolutamente segreta ora arriviamo a una parte legends infatti la battaglia di galitran io cercando in giro non ho trovato nessuna opera canon che ne parlasse nel dettaglio si viene nominata ogni tanto però nel dettaglio questo scontro non ne ho trovato traccia fatemi sapere se per caso nel camera la battaglia di galitran si combatte circa nel 44 miliwai questa battaglia fu scatenata dal governatore di galitran e dalle sue politiche segrete infatti lui era un segreto sostenitore dei deathwatch un gruppo mandaloriano scissorista infatti lui gli stava addirittura nascondendo in quel periodo dovete anche contrastare un gruppo di dissidenti nel suo pianeta quindi furbamente cosa fece assoldò i veri mandaloriani di jango fett persona non conosciuta per diciamo eliminare il problema soltanto che jango fett in cambio di questo lavoro chiese la posizione di tor visla capo dei deathwatch soltanto che non sapeva che il governatore di galitran era un loro sostenitore e non l'avrebbe mai non avrebbe mai lasciato jango fett salire al potere quindi dopo aver accettato le condizioni di jango fett con tor visla ideò un piano il loro piano era molto semplicemente di usare i jedi a loro favore per sbarazzarsi di jango e dei veri mandaloriani i i deathwatch travestiti da veri mandaloriani fecero sterminio di dissidenti causando così ancora più apprezzione da parte dei jedi infatti dooku come maestro jedi venne incaricato con un gruppo di compagni di eliminare o comunque risolvere la crisi con i veri mandaloriani quindi quando jango fett finì il lavoro venne raggiunto da questo gruppo capeggiato da do dopo aver intimato la resa dei veri mandaloriani e loro essersi ampiamente rifiutati inizia uno scontro causando la morte di quasi tutti i veri mandaloriani tranne di jango fett che fu l'unico superstite dei mandaloriani e di molti jedi finito lo scontro dooku consegnò jango fett nelle mani del governatore di calidran senza fare domande così come era da jedi tornato poi a casa comunque negli anni riflette molto su questo scontro infatti successivamente venne fuori che questo scontro era stato organizzato per andare contro a jango fett e il suo gruppo che in realtà non aveva fatto niente animale duku in tutti questi anni mantenne il rapporto con palpadin e comunque un occhio sulla condizione politica del tempo infatti vedeva sempre di più politici arricchirsi alle spalle dei cittadini e ciò unito alle vari conflitti col consiglio jedi o comunque anche all'attaccamento con la sua famiglia ciò portò un definitivo strappo causato dalla morte di quei gongi suo ex apprendista e ecco infatti unendo tutte queste cose quindi riavvicinarsi con la sua famiglia e il suo pianeta la parte secondo me comunque importante ma legends quindi non canonica della battaglia di calidran comunque la correzione del governo e vari problemi comunque anche nell'ordine dei jedi portarono con quest'ultima goccia che fece traboccare il vaso a un allontanamento definitivo da parte dell'ordine quindi ci ritroviamo nel 32 di pi guai con un duku che appena uscito dall'ordine dopo la morte del suo ex apprendista e un intelligente e carismatico palpati che gli confidò essere il signore dei sit ciò portò in duku un enorme cambiamento infatti si unì senatore palpati e cosa fece come prima cosa tornò sul suo pianeta natale dove ormai suo fratello aveva abbandonato il trono prese lui il comando di serenno venne finalmente conte e con le ricchezze della sua miglia aiuto il piano di palpati bene ora ci troviamo con un conto passato al lato oscuro con le intenzioni di supportare il suo signore ciò che però il conte non sapeva e che in realtà palpati lo stava manovrando con i suoi piani infatti le idee di duku comunque non erano del tutto malvagie infatti la sua intenzione era di riformare una volta concluso il conflitto l'ordine dei giovedì ma questa ragazzi è un'altra storia che vi racconterò in un prossimo video ora vi lascio con un piccolo indovinello in realtà non è un indovinello è più una domanda quando il conte duku cerca di far uccidere il generale griffus mi serve sapere l'opera il film o il libro o l'episodio i primi due di voi che mi sapranno dire l'episodio e l'opera verranno salutati nel prossimo video quindi niente ragazzi io vi lascio per oggi e ci rivediamo ad un prossimo video ciao